Io mi ricordo che Carlo Verdone aveva un grande affare su quel set perché non avere a che fare con 18 attori non è facilissimo, però non ci è riuscito, è stato molto divertente e molto faticoso perché è girato tutto di notte il film e poi e poi alla fine insomma era Federica che si era rubato i soldi. È vero allora. Se sentissi sarebbe bellissimo. Che cosa auguri al cinema italiano? Una rispettazione immediata auguro al centro italiano, auguro che le persone riprendano a uscire ad avere voglia di andare al cinema e di godersi lo spettacolo per come è stato pensato per il piano e schermo. Dicevi il premio alla carriera, una carriera con anche grandi successi, quello di cui vai più fiera? No, non ce n'è uno che preferisca. Diciamo che ho scelto di fare questo mestiere con sei tempi su un gambero in teatro. Prima avevo fatto due film ma insomma ero lì una specie di turista. Dal teatro in poi ho deciso che questo sarebbe stato il mio mestiere. Qual è il significato in questa location particolare di Via Veneto? La Via Veneto è stata la storia del cinema. Speriamo che aiuti a ritirare su le sorti del cinema e anche quelle di Via Veneto che risalgono tutto insieme.